Ecco la prepista ed ecco anche il primo arrivo di giornata, è un portacolori della Grafiche Zorgi che ha fatto il vuoto dietro di sé e va a conquistare la vittoria quest'oggi qui a Corte Franca. Un bel testa a testa invece più indietro con Valle Camonica, Mazzano e poi ancora Ronco. Sono questi gli atleti che sono riusciti quest'oggi a mettere la loro ruota davanti a tutti gli altri. Ecco qui che continuano gli arrivi anche la prima bambina.